Torniamo alla Siria quindi. La Siria non c'è dubbio è stata per me, per chi ha lavorato con me, ed è come una delle crisi probabilmente le più complesse della storia recente. Basta pensare che era tutto cominciato con una rivolta direi quasi spontanea ed è sul posto della popolazione, poi una risposta violentissima, va riconosciuta, brutale, però poi complicata da un coinvolgimento militare regionale e poi con un'ulteriore complicazione con un intervento politico e in parte militare all'inizio sia di Stati Uniti che di Russia. Quindi tutti erano coinvolti. C'è stato un momento addirittura che 11 paesi tutti assieme erano coinvolti in quel conflitto in una maniera o nell'altra, senza contare i 50 della cosiddetta coalizione contro Daesh. E in più Daesh, ISIS, l'ebola, il luccello nero che approfitta dei corpi deboli per poi entrare. E in più una combinazione di altri conflitti, per esempio Iran, Arabia Saudita, per esempio Turchia e quelle fazioni dei kurdi che loro ritengono che sono una minaccia per loro. Tra Stati Uniti e America a livello politico del Consiglio di Sicurezza, tra Israele e Iran. E non sono tutti, ci sono altri conflitti. E in più anche il governo, chiaramente. Quindi, una situazione nella quale alla fine siamo arrivati più o meno adesso. Un periodo in cui il conflitto è quasi terminato, territorialmente quasi terminato. Rimangono due zone e mezza che sono causa di preoccupazione, ma posso assicurarvi, avendo partecipato alle discussioni fino all'ultimo, c'è un dialogo, per esempio, tra russi e turchi su quello che riguarda il futuro di Idlib, che sta reggendo e ci sarà necessariamente una forma di discussione operativa per evitare il peggio per quello che riguarda tutta quella zona in cui c'è una forte presenza kurda, ma anche araba, dall'altra parte dell'eufrate.